Fere, dove ti sei cacciata questa volta? Ma salve mio caro Steph! Oggi ho preparato un bellissimo video per te, sei felice? Non mi dirò di provarlo, andiamo? Prima di tutto stai calma, perché qua c'è troppa energia e non va bene. Negativa aggiungerei. Negativa, vabbè, questo l'hai deciso tu, ok? E posso capire da dove sei uscita fuori, Fere? Dal mio passaggio segreto, perché ti ho visto sbucare da tipo qua, quindi da qualche parte ci deve essere... Non c'è cazzo, smettila! Non vuoi rivelare il segreto, Fere? Esatto. La magia? Ok, va bene, va bene. Sono un mago oggi, Steph. Comunque, mi hai detto di venire qua e non l'ho ancora ben capito, perché ho soltanto notato che fuori è notte, quindi è qualcosa già di brutto, l'ho già capito, non c'è bisogno neanche che me lo dici. Esatto. Fammi capire che cavolo hai preparato quest'oggi. È la mia vendetta per tutte le lucky race che abbiamo fatto, Steph. Quante ne abbiamo fatto? Quante ne hai preparate? Secondo me una decina. Eh, appunto. Cioè, tra quello di distruggere, quello di correre, le bedwars, una decina ce ne abbiamo. Esatto, quindi immagina il rancore che ho portato per 15 video, Steph. Ok, parecchio, immagino. Quindi questo è il frutto del mio rancore. Ma devo avere paura o posso stare tranquillo? Così, così. Così, così addirittura. Adesso ti faccio vedere, Steph. Guarda. Sì. Da qui probabilmente inizierai a capire di cosa si tratta. Balli, granni e pennywise. Ok, vabbè. Allora, potrebbe essere semplicemente una festa sorpresa per me, dato che l'altro giorno era il mio compleanno, insieme ai miei migliori amici. Giusto? È così? Poi tu hai sempre adorato gli horror, vero, Steph? Sì. Tu guardi tutti i film, giochi tutti i giochi. Un grande esperto. Infatti sono tutta la storia di Hit, quindi tranquilla. Meno male, Steph. Allora. Allora, cosa vuoi sapere, Steph? Sei un po' titubato. Sai, dovrei anche essere tranquillo, scusa. Ho preparato. Ho preparato. Con balli, granni e pennywise che adesso la quarta sono io. Ho preparato il cimitero del terrore. E ognuno di loro è un livello, Steph. Ah, è un livello? Sì. Ma lo devo prendere a pugni e ho fatto? No, Steph, devi entrare nella loro tomba. Spera, io soffro di claustrofobia. Esatto, esatto. Questa è la mia prima vendetta, Steph. Quindi... So quanto tu hai paura dei luoghi stretti e angusti. Ho detto, cosa c'è di meglio di farlo entrare in una tomba? Alle medie dovevamo andare in gita in una miniera. Io non dico che non sono andato, ma proprio neanche ci ho pensato. Ho già fatto, andremo in gita io. Yeah, in miniera. Ciao. E quindi non ero andato. Beh, Steph, puoi rifarti, dai. Beh, siamo in un videogioco quindi è più semplice. Allora, devo partire in un ordine specifico? Faccio quello che voglio. Sinceramente no, puoi fare quello che vuoi. Vabbè, vai, andiamo sinistra verso destra. Partiamo da Baldi. Quello che preferisci, Steph. In ordine cronologico. Baldi è stato l'ultimo gioco uscito, Granny, e poi hit col film l'anno scorso. Ci sta, ma senso. Allora, ok, si scende così. Eh, va bene. Fin qua mi sembra tutto normale. Siamo praticamente dentro la sua tomba, in poche parole, no? Certo. Certo. A livello di cosa. Eh sì, Steph. Però, fai non fa così paura. Alla fine è soltanto una miniera. Steph, questo è solo all'inizio, ma per chi mi ha preso è che ti prepara un corridoio di tre mattonelle che poi si chiude. Beh, magari era un'altra. Devi trovare il modo di proseguire, Steph. Non ci sono blocchi finti o cose del genere. Allora, ovviamente è un passaggio segreto, quindi tu per raggiungere questo livello avrai anche questi ostacoli. E mica te la rendevo semplice, Steph. Guarda, dopo tutto quello che mi ha fatto passare. Allora, sto cercando di tastare il terreno. È in difficoltà, è in difficoltà. Ok. È una porta invisibile. Ok, è chiaro ormai. Sì. Allora, inizia ad esserci un arredamento molto scolastico. Ovviamente. Dato che siamo da Baldi. Andremo, Steph, nella sua scuola? No. No, 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 no. Grazie. No, 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 no. Anche perché noi non abbiamo mai finito il gioco e c'è un motivo, Fede. Perché odio Baldi e quel gioco è troppo difficile. No, Steph. Cioè, in realtà le sete le abbiamo prese. Proprio ne abbiamo fatto finale super difficile perché quello è troppo complicato. dimmi, Fede. Muoviti. Vabbè. Prosegui che qua sono tre i livelli. Hai fatto la stessa cosa, però un po' banale, cara. Ti potevi... No, Steph, non è la stessa cosa. Infatti ho notato dopo. Era una porta di ferro col bottone qui al lato. Che mi dici? E l'altra era una porta di legno invisibile. Ah, beh. Fede, ti sei sprecata. Ma beh, Steph, siccome so che tu sei tonto, non ti voglio lasciare mezz'ora a fare quei cavolo di passaggi segreti perché sennò poi tu... Hai fatto bene. Ho capito, non saresti neanche arrivato qua. Hai fatto bene. Ti ricorda la nostra scuolettina di Baldi, Steph? Eh, un po', un po', sì. Allora, io adesso lo vado a chiamare, Steph. Ci sono comunque più pixel di Baldi. No, aspetta, Fede, cosa hai detto? Che lo vado a chiamare a Baldi. No, 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 tu resti qua. No, Steph. No, 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 no. Ti devi arrangiare tu, eh. No, no, no. Devo andare. Io non partecipo, non è a farmi stare. Allora, faccio la solita tattica. Ultimo banco, raga, e ci proprio camuffiamo. Fede è passata attraverso qualcosa, chiaramente. Non è vero. Fede, ti ho visto palesissima. Non è vero. Vabbè, noi cerchiamo di stare qua nascosti, ci guardiamo così. Salve! No, non c'è nessuno. Mio caro Steph! Chi è Steph? Dai, mi devi far gire intorno per tutto il tempo. Salve. Come sta, signor Baldi? Allora, io sto benissimo. E' una nuova missione. Ma no, non ce la faccio, mi fa troppo ridere. Sei tutto fifone, quindi non fa. Allora, ovviamente, Steph, dovrai affrontare le prove di Baldi. Ok. Sai quali sono le prove di Baldi? Matematica. Ovviamente. Ok. Quindi inizieremo con delle operazioni. Beh, va bene. Ok. Era abbastanza brava a scuola, quindi ce la dovrei fare. Sei pronto? Allora, cosa stai facendo, scusa? Mi sto preparando, perché nel caso che tu sbagli... No, no, non mi piace. Stavo preparando il mio arsenale, Steph. Ok, va bene. Allora, Steph, sei pronto? Sì, sono pronto. Due più cinque. Due più cinque fa sette. Ok. Ok, grazie. Tre meno uno. Tre meno uno fa due, grazie. Poi, allora, ovviamente nelle addizioni tu sei bravissimo, quindi passiamo alle moltiplicazioni. Ok. Tre per sette. Tre per sette fa ventuno. Otto per... Eppene, ho già il dubbio. Sto andando sul sicuro col fatto che lo dico io e quindi vabbè, dai, sarà giusto, no? Otto per otto, Steph. Sessantaquattro. Adesso, mi raccomando, sei di fronte all'esame finale. Sei pronto? Adesso mi fa... Due miliardi e quattrocento milioni per quarantacinque, meno quattro per... Zero. Per uno, anzi. Ti sei resa conto? Dai, Steph, ma le stai aspettando? Non le ho scritte. Ma fa uno. Quindi qual è? Fa uno. No, allora se ne faccio un'altra. Ok. Raga, che fail è questa qua? Perché hai detto proprio zero? L'unico numero che mi dico era zero. Ho detto più uno. Ok. Sì, però... Non lo sapevi. Tutto quel numero per zero fa zero? No, perché ho tolto lo zero. Ah! Fanno un'altra, dai. Non renderti ridicola. Allora. Sì. Quattrocentoventottomila e duecentodiciassette per otto meno quattro più cinque. Sei. Sì, Steph, è giusta. Fere, cos'è? Aspetta. Fere! Ti com'era a scappare, Steph. Ma è diventata pure più brutta o sbaglio? Ho visto bene? Era un l'angribaldi. Era un l'angribaldi. Cioè, ti sei preparata? Va bene. Steph, portati qui, ti prego. No, no, no. Io non ci torno più in quella tomba. Vado in quella dopo finché non ci sei ancora tu. Aspettami. E mi autogestisco. Questo mi può essere utile. Grazie. Ce lo nascondiamo così. Come si rientrava in questo postaccio? Da qua? Ok, perfetto. Quindi, fammi vedere com'eri. Mamma mia, che brutta. No, aspetta. Aiuto a fare... Ok, tutta posta. Stai sbagliando. Allora, grande. Perché hai un uovo nelle spalle, Steph? Cosa? Hai un uovo nelle spalle. No, non è vero. Guardati la skin. Perché sei un fantasma? Io ti vedo normale. Che sta succedendo? Perché sono morto. Allora, aspetta. Per un minuto e quindici sono un fantasma. Voglio tornare normale. E beh, ma allora i fantasmi non hanno paura. Ah, mi stai uccidendo, Steph. Doveva essere un video serio. Perché con te le cose devono sempre finire male? Fede, ma... Ah, ok. Questa volta era sopra. Ok. Allora. Ok. Ovviamente, Steph, come avrai visto dall'ingresso, stiamo andando nello scantinato di granni. Ok. Sì, beh. Si capisce. E sai che non c'è mai niente di buono nello scantinato di granni. Ok. Ti piace, Steph? Questo è il mio posto preferito. Perché non vieni qua? Cosa? Perché non vieni qua? Ah, tranquilla. Sto bene a distanza. Ok, vado a chiamare anche granni. No, 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 no. T'ho già sparita, Steph, e tu neanche mi hai visto. Come si è nascosto il maledetto. Dai, Steph, ti prego. Ti sei buttato nel pozzo. Dai, vieni! Non puoi fare così. Ho rotto le scatole. Dai quanto ci ho messo a costruire tutte queste cose. Sei ore, porca miseria. Mi stai rovinando il video. Ce l'ho quasi. Allora, ok. Allora. Sì, salve. Io sono la tua nonnina adorata, ok? Ma non ci fai una voce? No, non te la faccio perché mi hai fatto arrabbiare. Ok. Quindi, mio caro nipotino. Sì. Oggi preparerò per te tanto, tanto cibo. Vediamo che cosa ho. Ok. Vediamo se ho qualcosa da darti da mangiare. E fin qua può andare anche bene. Lo vuoi del pesce? Lo vuoi del pesce? Ti piace? Più o meno, sì. Del pane? Ah, sì, il pane mi piace. Ok. Tieni, mi raccomando, devi mangiare tutto. Ok. Tieni, tutti quanti, non ne devi lasciare neanche uno. Ma sono 64 e ho la fame al massimo, Fede. Esatto, ma li devi mangiare tutti. Non posso. Perché non stai mangiando? Fede, 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 Fede. Ho un buon motivo. No, Fede, aspetta. Adesso inizio a correre intorno. No, poi però, va bene. La tua povera nonnina sono vecchia. Guarda. Io cucino per te. Ha ragione, nonnina. Infatti io sto correndo tutto il tempo per avere fame. Guardi, guardi, guardi. Che bravo nipote. Finiti. Non li hai finiti? Sì. Ne hai ancora 63. La nonna lo sa. No. Steph, la nonna lo sa. Steph. Non buttare il mio cibo, ok? Finiti? Porca miseria. Non li hai finiti? Gli hai buttati lì? Vuole morire. Il nipote vuole morire. Vieni qua. Ciao, nonnina. Mi fanno male le gambe. Non ti posso raggiungere là. Devi scendere. No, grazie. Che buono questo pane. Così recupero vita. Sei odioso. Te ne stai già andando. Non abbiamo finito. Sì, sì. Dai. Come stiamo, ok? Arrivederci, nonnina. Ok. Io i miei problemi li ho risolti. E il secondo livello l'ho affrontato. Manca l'ultimo. Ok. È un po' strano, Steph. L'hai capito? Dai, devo anche tornare normale. Che noioso. Ok. Beh, Steph, sei già dove siamo. Sì. È pieno di palloncini. Dovrebbe essere un posto più allegro degli altri. Però ho un brutto presentimento. Sei già che non lo sarà, vero? Già, già, già. Steph. Eh. Lo vuoi un palloncino? Ma se... Vuoi un palloncino, Steph? No, 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 no. Tieni. Sì, ho usato il fattore sorpresa stavolta. Siccome mi stai rovinando il video, come saprima sta roba, Steph? Non mi ricordo. Steph, aiuto. L'hai rotta? No, no. Non riesco ad entrare. Steph, com'era? L'abbiamo risolto, raga. Com'era? Poi sognuno che lo rovino a sto video. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Che stai facendo? Cercavo di nascondermi. Vieni, Steph. Lo vuoi un palloncino? No, no, lo voglio. Dai, Steph, devi prendere un mio palloncino. Altrimenti il gioco qua non si può fare, Steph. A punto. A punto. Dimmi. Adesso io muro la porta. Aspetta. Cosa? Così tu non puoi più uscire. Mi hai rotto le scatole cercando di scappare da me. Vuoi un palloncino, Steph? Ci sto pensando. Mi dovresti provare a convincere del perché lo voglio. Puoi anche scegliere il colore, guarda. Ok. C'è viola, c'è arancione, c'è rosa, c'è verde. Dove sei finito? Steph, devi prendere il palloncino. Ma posso chiedere, signor Pennywise, di che materiale hai fatto quel palloncino? Di plastica. L'hai preso, l'hai preso. Sì che l'hai preso, Steph. Finché non lo piazzo, non mi hai convinto. Sì che ti... Sti cavolo di rampicanti ho nelle foglie qua, Steph. Allora, no perché, cioè mi stai dicendo che è 100% plastica come palloncino? Sì, quindi lo vuoi il palloncino. Ma ne hai sicura? Sì. Cioè, che tipo di cosa è stata utilizzata per colorarlo? Cioè c'è del colorante, non è che mi rimane in mano. No, tranquillo, è il filo, quindi non lo devi neanche toccare. Già gonfio, già pronto. Ma non è che poi scoppia perché magari è poco resistente all'aria delle fogne? No. No? Guarda, questi ti sembrano scoppiati, scusami. Beh, effettivamente stanno durando parecchio. Ma non posso prendere allora uno di questi che c'è già? No. Cosa hai fatto? Nulla, è tutto a posto. Quelli erano i palloncini per rapire gli altri, Steph. Vedi, questo è rapire? Vabbè, secondo te che servono? Steph, devi prendere il palloncino. Un passaggio segreto. Era quello per chiamare Pennywise, ma tu mi hai rovinato tutto. Allora, tieni, Steph. Basta. Grazie. Aspetta, aspetta. No, stai lì, stai lì, stai lì. Tranquillo, Steph. È tutto a posto? Tranquillo. Ecco qua. Ecco qua. Ciao, Steph. Te rimarrai lì per sempre. Io adesso me ne vado e tu rimani... No, cosa stai combinando? Nulla. Ok, perché ti vado a muovere. Ebbè, non mi posso neanche muovere. Guardati bene. Perché i palloncini? Steph, guardati. Che c'è? Cioè, non ti vedi? Hai i palloncini nella schiena. No, io tutto a posto. Io ti vedo con i palloncini nella schiena che ti escono dal petto. Tutto a posto, grazie. Vada via. Sto arredando a casa mia. Ah, ti piace vivere nelle fogne? Ci rimani allora? Sì, sì. Ci rimani? Abbiamo finito, sì? Sì. Hai rovinato tutto, ma abbiamo finito. Non vale, grazie. Tieni tempo. Signora Pennywise, Ferreniki Few. Grazie mille. Non è vero, non sono Ferreniki. Ah, non altro. Ferreniki l'ho mangiata. Qua sotto... Qua sotto compaiono altri video. Iscriviti al canale, campanellina, e ci vediamo in un prossimo video che sarà migliore di questo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.